Musica Roberta, sede Avis L'Uras e Avis Provinciale Olbiatempio per un progetto di collaborazione con il torneo SELIS. Di cosa si tratta? Allora, il progetto è nato per la sensibilizzazione al dono del sangue, visto che abbiamo sempre bisogno del sangue. Quindi è nato il binomio acqua-sangue, perché sia l'acqua che il sangue sono donatori e portatori di vita. La collaborazione col torneo è nata grazie alla conoscenza con Enea, che ci ha dato la possibilità di presentare il nostro progetto. Saremo presenti durante la finale, dove consegneremo a tutti e mille bambini presenti un brick a bambino. Il progetto si intitola Donare naturale come bere l'acqua. Nel brick sono indicati anche i requisiti principali per donare, tra cui uno stile di vita sano. Dunque lo sport sicuramente fa parte di uno stile di vita sano. E allora, grazie per questa collaborazione e diamo l'appuntamento a tutti per la finale del 2 giugno al Nespoli. Grazie. E naturalmente invitiamo anche alla donazione. Alla donazione, soprattutto. Grazie mille anche Enea per averci dato questa possibilità. Grazie. Grazie.